Spieghiamo in quattro punti che cosa è CrossFit. Si eseguono movimenti funzionali. Il corpo è nato per lavorare tutto insieme. Non facciamo lavorare un muscolo alla volta come in palestra. Li eseguiamo ad alta intensità, perché non è la durata dell'allenamento che fa l'efficacia dell'allenamento, ma è l'intensità con cui faccio il mio allenamento. L'intensità è soggettiva. Ognuno troverà la sua alta intensità. Variando l'allenamento tutte le volte, ci aiutiamo a raggiungere gli obiettivi per cui ci alleniamo in modo molto più veloce. I movimenti che troviamo nel mondo dell'endurance, la corsa, la voga, la bici, tutto quello che viene dal mondo della ginnastica, corpo libero, quindi l'impiegamento, attrazione alla sbarra, un esercizio agli anelli, ad andare in verticale, tutto quello che è weightlifting, un sollevamento pesi dinamico, più simile a quelli che facciamo nella vita tutti i giorni. CrossFit è sport e non fitness. Si trova la stessa componente di divertimento che difficilmente si trova nel fitness. Non si lavora per obiettivi estetici, ma per obiettivi di prestazione. Concentrandomi sull'obiettivo do il massimo. E banalmente cosa succede? Che il fisico risponde molto più velocemente. Che il fisico risponde molto più velocemente. Che il fisico risponde molto più velocemente.